Personale medico e paramedico attenzionato nella tredicesima edizione del premio Medicina Abruzzo nella sala Domenico Tinozzi della provincia di Pescara. Siamo con il primario della San Salvatore dell'Aquila, reparto di anestesia, Franco Marinangeli. Ecco intanto un giudizio su questa iniziativa che vuole attenzionare tutti coloro che davvero hanno fatto i salti mortali per cercare di dare il proprio contributo. Un'iniziativa lodevole, semplicemente lodevole perché specialmente alla fine speriamo di questa seconda o seconda terza ondata, a seconda dei punti di vista, in realtà è fondamentale anche fare un debriefing di quanto accaduto e quindi andare a sottolineare quanto di buono è stato fatto in questi 15 mesi di pandemia a mio avviso è molto molto importante, per mettere in evidenza appunto gli aspetti positivi ma anche per sottolineare magari quelle criticità che se attentamente valutate ci possono permettere di costruire un sistema sanitario regionale migliore. Oggi con i vaccini tutto è diventato più semplice ma quali sono stati i momenti più brutti, più tristi secondo lei? Quelli in cui non c'erano i vaccini, quelli in cui praticamente la guerra era tra il virus e fondamentalmente i pazienti e noi sanitari, quelli in cui mancavano uomini e mezzi. Oggi appunto come dice lei è tutto cambiato grazie al vaccino e la strada è in discesa ma abbiamo visto veramente momenti bui probabilmente nel mese di ottobre-novembre lo scorso anno quando è ripartita un'ondata che era inaspettata come sappiamo e di fronte alla quale credetemi veramente la lotta è sembrata impari. Tenga conto che all'Aquila dove io lavoro questa seconda ondata ha avuto un fattore di moltiplicatore di 5.5 rispetto alla prima, cioè abbiamo gestito solo in terapia intensiva quasi oltre 160 pazienti a fronte dei 30 che abbiamo gestito la prima ondata, quindi una situazione completamente diversa. Quindi quello è stato il momento probabilmente in cui siamo resi conto che le cose potevano volgere veramente male.